Le vernici Renner Italia sono fatte con materie prime controllate, provenienti al 95% dai paesi dell'Unione Europea, soprattutto da Italia, Germania e Paesi Bassi. Sono quasi 2000 le tipologie di materiale annualmente acquistate, tutte di altissima qualità, perché sullo standard non transigiamo. Selezioniamo i nostri fornitori anche in base al loro modello industriale. Vogliamo infatti che tutti gli attori della nostra filiera aderiscano ai nostri valori. Per questo esigiamo che le preziose risorse del nostro ambiente siano preservate e che ogni lavoratore sia trattato con dignità e rispetto.